Buonasera, buon mercoledì a tutti, buon centro della settimana, benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì dove affrontiamo i nostri argomenti di economia domestica, dove si risveglia un po' la voglia di andare a indagare su quello che facciamo, sulle nostre scelte quotidiane. L'argomento di oggi è, come da titolo, nessuno vuole più essere Robin, come dettava una canzone di Cesare Cremonini, credo nel 2018, forse sì, 2018 credo, intorno a quella data, pre-Covid, insomma. Perché nessuno vuole essere, nessuno più vuole essere Robin? Semplicemente nella società moderna l'uomo ha imparato, ma proprio tra virgolette, ha imparato a vivere in una comunità, se così si può chiamare una comunità, perché comunque la comunità si è evoluta a tal punto che è più individualista, cioè l'uomo, pur essendo aumentata la popolazione a dismisura, è sempre più solo, vive sempre più solo, vive sempre di più nell'individualismo e cerca di attaccare inconsapevolmente il suo prossimo. Ma questo perché? Attaccare, in che modo attaccare? Lo si vede con l'utilizzo di macchine sempre più grosse rispetto a quelle del vicino, se uno ha il 2000, l'altro si compra il 3000 di cilindrata, ed è una scelta inconsapevole, o consapevole, nel senso, è consapevole la scelta di comprarsi il 3000 di cilindrata, però non lo fa con la consapevolezza, ma io lo sto facendo perché voglio essere più grande del vicino, no, per lui è stato indottrinato così nel suo modo di pensare, quindi lo fa in scioltezza, senza un consapevole modo di vivere, di scegliere, lo fa e basta. Quindi tutto questo meccanismo che porta comunque l'uomo ad essere Batman, perché comunque è la società che vuole che l'uomo sia Batman e non Robin, vogliono tutti essere dei supereroi. Provate a guardare una foto di 50 anni fa, fai anche 70 anni fa, 70 anni fa. Io ho provato a vedere delle foto di attori in piscina di 70 anni fa, attori dell'epoca naturalmente, Cary Grant, non sbaglio, e anche un'altra famosa attrice, molto bella. Allora, questi attori in piscina sembravano una foto di oggi, sembravano una foto di oggi, ma questo perché? Perché oggi sono tutti così come gli attori di una volta, quindi se tu oggi vai al mare, vedi comunque delle persone che sfoggiano costumi da 300 euro, che sfoggiano l'orologio, che acquistano orologi appositamente per andare a farsi vedere al mare, portano al polso Rolex che fino a dieci anni fa costavano al massimo 3-4 mila euro, oggi valgono 20 mila, gonfiati naturalmente perché non li valgono assolutamente, non vale assolutamente quel denaro, ma li comprano apposta, fanno debiti, fanno finanziamenti per andare al mare con questi oggetti fetish alla fine, anzi neanche, magari fossero fetish, perché comunque il feticismo può essere una scusante, invece qui un'attenuazione, invece qui parliamo di sfoggio, parliamo di nessuno vuole più essere Robin, vogliono essere Batman, quindi questo livello di società ha portato a sporcare il modo di pensare, il modo di essere padri di famiglia, il modo di ragionare, il modo di fare la spesa, perché comunque persino il genitore in dottrina del figlio inconsapevolmente in questo modo, in questa maniera, perché comunque la mamma dice al bambino però adesso ti compro questa cosa qua, per questa cartella qui, questo zaino qui, perché non posso farti andare a scuola con lo zaino che costa 20 euro, adesso ti compro questo che costa 70 euro, 100 euro, così ti vedono e ti allineano subito a una famiglia benestante, perché se tu sei povero, vieni comunque associato ad un'altra categoria, io quando andavo a scuola, per esempio, ce n'era uno che era ricco, tutti gli altri erano poveri, compreso me, quindi voglio dire, e non è che oggi le cose si siano evolute, cioè nel senso, se comunque nasci povero, difficilmente diventi milionario, a meno che non hai comunque una mente tale da sviluppare un'economia, o comunque fai una strada tale da poter procedere in quel modo, comunque non dico che vivi nella povertà, però non ti puoi reputare ricco, quindi io mi sento Robin, ma mi sento Robin in tutto, cioè non è che, non mi interessa neanche essere al primo posto, la prima donna, non me ne frega niente, cioè nel senso, preferisco consapevolmente vivere così, piuttosto che fare del debito per avere un qualcosa di materiale per distinguermi da cosa poi, che non ti puoi nemmeno distinguere, perché comunque sono tutti così, anzi forse la distinzione è migliore al contrario, per quello che vi dico sempre il mio punto di vista sul consumismo, perché il consumismo sotto un certo punto di vista può essere favorevole, ma se è puro consumismo, qui invece andiamo a intaccare la sfera classista, cioè non è che io dico io però continuo ad acquistare perché così l'economia va avanti, no, non gliene frega niente alle persone dell'economia, le persone non vogliono essere Robin, per quello che comprano cose che servono maggiormente, stavo pensando dove può portare alla fine questo modo di pensare, cioè se può avere una fine, non ho mezzi per, non sono un profeta, non posso arrivare con la mia percezione, non posso sapere dove porterà questo, sicuramente non sta portando bene, perché comunque, molto probabilmente porterà una consapevolezza, ma quando porterà una consapevolezza? quando la gente non ce la farà più e le persone stanno arrivando a tal punto, perché comunque se le bollette della corrente elettrica, dell'energia elettrica, arrivano a 200-300 euro, le famiglie non ce la fanno più poi, cioè dove la bolletta era un ingrediente della spesa mensile, adesso diventa il batticuore quando la vedi nella cassetta della posta, perché comunque ti aspetti che magari si siano ridimensionati i costi, invece l'hanno detto chiaramente in televisione e al telegiornale che praticamente sono fuori controllo, devi controllarti di tu, devi ogni anno rifare i contratti delle utenze perché altrimenti questi qua ti tirano la pelle di dosso, cioè un anno dura il contratto dopodiché o lo rifai o ti applicano le tariffe che vogliono loro. Quindi diventa una lotta a chi più ne ha più ne metta alla fine, a questo punto, ma diventa anche un modo di ragionare se siamo in questa condizione. Cioè uno è furbo, comunque queste cose le ragiona, inizia a fare mente locale, inizia ad analizzare la propria condizione, inizia a dare dei freni, a modificare il proprio stile di vita secondo le proprie tasche, perché comunque ricordiamoci che nel nostro tenore di vita dobbiamo includere anche quello del futuro perché l'Inps non ci sta pensando oppure ci sta pensando sì, però non è a lungo termine la cosa e purtroppo ci dobbiamo pensare noi e con una pressione fiscale che abbiamo oggi se quella parte di denaro la diamo anziché al risparmio, al consumo di cose futili, il consumismo ci sta, perché ci sta. Però dobbiamo renderci conto che determinate cose non si possono più acquistare, quelle cose futili che non servono a nulla, se abbiamo un qualcosa in più in tasca dobbiamo pensare al futuro perché l'Inps non sarà vostro amico, non sarà nostro e non sarà vostro. Quindi diventa fondamentale pensare a se stessi, essere un po' più egoisti, ma egoisti nel senso buono perché non è possibile una condizione del genere, non è possibile pensare al consumo di cose inutili, di scarpe da 500 euro quando nessuno penserà a voi in età avanzata. E questo diventa fondamentale perché se oggi una visita costa 200 euro dal privato, scusate, non sto parlando di cose straordinarie, sto parlando che se voi avete bisogno di una visita urgente e andate all'ospedale vi rispondono che non c'è posto, ci sono liste d'attesa di un anno, però anche qui, anche qui, se voi vi rivolgete, c'è una legge, se voi vi rivolgete a un ente privato perché l'ospedale vi dice che non c'è posto entro un tot di tempo, voi vi rivolgete a un privato potete farvi risarcire dall'ospedale o vi trova al posto oppure vi paga la visita lui. Però, questa piccola parentesi, se oggi una visita costa 200 euro, pensate tra 10 o 15 anni, 20 anni, quanto potrà costare. E non è che la popolazione diminuisca perché aumenta sempre di più, quindi ci sarà sempre meno posto per, sì, aumenteranno certo gli ospedali, i punti sanitari, però bisogna vedere, cioè, se voi guardate la vita di 20 anni fa è completamente diversa da quella di oggi. Purtroppo i salari sono quelli che sono, sono quasi identici a quelli di 20 anni fa più o meno, non è che siano cambiati chissà quanto. Quindi ragazzi, bisogna veramente darsi un punto di vista diverso, che non siamo Batman. Anche se la società vuole che tu sia Batman, tu devi farti, devi diventare Robin, devi pensare come Robin. E non è un male. Il sapere è potere a questo punto. Il pensare è potere. Vi mando un abbraccio, ciao da Mauro e dal canale YouTube, non chiamiamolo di rasatura perché non è più rasatura, non è più neanche il contesto. Vi mando un abbraccio, buona serata a tutti ragazzi, grazie per la compagnia.